buongiorno volevo sapere dove poter acquistare la gomma gt823 perché sembra introvabile in italia grazie saluti ho deciso di fare questo video per rispondere alle decine decine che di messaggi su facebook instagram via email che ci arrivano quotidianamente sulla reperibilità dei prodotti golden tire ma specialmente dell'ambitissima gt823 kh per l'africa twin in europa dal 2018 esiste un distributore unico che si chiama g point world è una società inglese che ha però due magazzini una south hampton e una köln in germania dal quale distribuisce in tutte le aree europee quindi in italia hanno un eccellente servizio distribuzione hanno uno stock completo pronto a essere inviato per voi e soddisfare le vostre richieste questa società è una società internazionale una società che si occupa di distribuzione di tantissimi prodotti e ha deciso di investire proprio nel marchio golden tire proprio a seguito di una ricerca di mercato che hanno fatto per individuare dei prodotti di nicchia e potessero essere interessanti quindi come fare a ricevere le proprie golden tire molto semplice in questo momento dovete scrivere una mail all'indirizzo che troverete giù in descrizione potete tranquillamente scrivere in italiano visto che ci sono dei ragazzi che parlano italiano anche meglio di me e quindi cosa dovete fare semplicemente inviare appunto un'email con le vostre richieste dando i vostri dati perché così vi faranno un preventivo con la consegna direttamente a casa vostra in tempi brevissimi perché normalmente penso che da quello che so consegnano in tre cinque giorni lavorativi quindi hanno un efficientissimo servizio di logistica ma per il prossimo futuro stanno lavorando a una app dalla quale potrete direttamente ordinare i vostri prodotti in maniera rapida ed immediata altra cosa stanno iniziando anche a fare accordi con dei negozi anche sul territorio italiano ed è possibile in alcuni punti vendita trovare la disponibilità appunto dei prodotti e penso che nel giro ora superato questo periodo un po particolare che stiamo tutti noi vivendo diventerà poi comunque una possibilità anche questa altra news proprio di questi giorni mi hanno informato che stanno lavorando anche alla distribuzione direttamente in italia attraverso una società italiana che si sta interessando per fare la distribuzione sul tutto territorio nazionale questo renderebbe ancora più capillare la rete vendita e renderebbe molto più facile per voi la possibilità di acquistare le golden tire il nostro obiettivo è rendere la reperibilità del prodotto golden tire al pari di altri paesi come ad esempio il nord america sud america australia dove abbiamo comunque dei distributori super efficienti ed è quello che sta succedendo appunto anche in europa o ad esempio negli emirati arabi che comunque c'è un sempre un distributore ma che vende attraverso amazon quindi ci sono realtà differenti però il risultato finale quello è di accontentare i nostri amici utenti che vogliono per la loro moto i migliori pneumatici sul mercato se avete altri dubbi domande richieste scrivetelo nei commenti qua sotto sarò ben felice di rispondervi e quindi non c'è altro da dire ci sentiamo presto e spero di vedervi con le golden tire hasta luego compagneros e 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 Grazie a tutti.